Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino, questo episodio di Non puoi non saperlo è dedicato alla destra storica, uno dei principali schieramenti politici italiani nel periodo compreso tra l'unità d'Italia e i primi anni del XX secolo. Viene chiamato destra storica per distinguerlo dai partiti e movimenti di massa qualificati come di destra, che si sarebbero affermati nel corso del XX secolo. Nel gennaio del 1861 si tengono le elezioni per il primo Parlamento dell'Italia Unita, che lo ricordiamo ancora non comprendeva il Lazio e il Veneto. Il diritto di voto viene concesso soltanto a 419.938 persone, circa l'1,8% degli oltre 22 milioni di cittadini italiani. L'affluenza alle urne è del 57%. Le elezioni vengono vinte dalla destra storica, erede di Cavour ed espressione della borghesia liberale. Gli esponenti di questa parte politica sono soprattutto grandi proprietari terrieri, imprenditori e personalità legate all'ambito militare. Ricordiamo, ad esempio, Quintino Sella, che proveniva da una famiglia di industriali nel settore tessile, Marco Minghetti, figlio di grandi proprietari terrieri, e il generale Alfonso Lamarmora. Subito dopo le elezioni, la destra storica si divide in due correnti, differenziate in base alla zona d'elezione. La prima, che prende il nome di Associazione Liberale Permanente, è costituita dagli eredi della destra storica piemontese del Regno di Sardegna. Della seconda fanno invece parte i tosco-emiliani, sostenuti dai parlamentari lombardi e da quelli meridionali, che insieme formano un gruppo che i piemontesi chiamano dispregiativamente consorteria. Inoltre, è importante sottolineare la differenza di vedute tra gli esponenti settentrionali e liberali della destra storica e i nuovi rappresentanti della stessa fazione, vale a dire i borghesi meridionali, di tendenze più conservatrici. Anche le divergenze fra queste due anime della coalizione politica saranno di non poco comuto. Col tempo, poi, la divisione all'interno della destra storica si identifica sempre di più con lo scontro personale tra i leader delle due correnti, vale a dire Sella e Minghetti. Le due anime della destra storica concordano comunque su due punti fondamentali. Il primo è la necessità di raggiungere il pareggio di bilancio e il secondo è il fatto che le riforme volute dalla sinistra, soprattutto l'allargamento del diritto di voto a vaste fasce della popolazione, fossero sconvenienti per gli interessi che essi rappresentavano. La destra storica si trova ad affrontare innumerevoli questioni. Ricordiamo in particolare la difformità legislativa nelle varie regioni, gli enormi debiti, contratti per finanziare le guerre di indipendenza e la necessità di finanziare in quel momento le opere pubbliche necessarie per modernizzare il paese e renderlo competitivo con gli altri stati europei, le relazioni con la Chiesa e la necessità di completare l'unità d'Italia con l'annessione dei territori in mano straniera, impresa che richiedeva ovviamente ulteriori risorse finanziarie. Il problema della difformità legislativa viene affrontato con l'accentramento dei poteri e con la cosiddetta piemontesizzazione, vale a dire estendendo la legislazione piemontese a tutta la penisola, lungo la quale vengono poi create le prefetture come capillare strumento di controllo del territorio. Vengono invece accantonate le proposte di Marco Minghetti che prevedevano l'istituzione di enti locali con un certo grado di autonomia rispetto al governo centrale. Un provvedimento molto significativo è quello dell'estensione a tutto il Regno d'Italia del libero scambio, con il conseguente abbattimento delle barriere doganali, già assenti in Piemonte ma esistenti ancora nei territori degli altri regni preunitari, a protezione del loro mercato interno. Questa decisione contribuisce all'inizio del declino delle industrie meridionali, che si stavano appena sviluppando e che in quel periodo non erano in grado di competere con le più avanzate aziende straniere, in particolar modo quelle inglesi. Anche il sistema scolastico viene riformato e uniformato in tutta Italia a quello piemontese, con l'estensione al Regno d'Italia del decreto legislativo del Regno di Sardegna del 13 novembre del 1859, noto come Legge Casati, che aveva introdotto l'obbligo scolastico. Questa scelta conferma la volontà dello Stato italiano di farsi carico del diritto dovere di intervenire in materia scolastica, a fianco e in sostituzione della Chiesa Cattolica, che da secoli deteneva il monopolio dell'istruzione. Viene poi istituita la coscrizione obbligatoria, ovvero l'obbligo del servizio militare, che contribuisce alla formazione di un profondo malcontento nelle zone precedentemente governate dai borbonici, dove il servizio militare era invece soggetto a sorteggio ed era evitabile col riscatto. L'organico dell'esercito delle due Sicilie era infatti costituito in parte da truppe di mercenari svizzeri. Interessante a questo proposito notare che nel romanzo di Giuseppe Verga, I Malavoglia, l'inizio della rovina della famiglia toscano inizia proprio con la partenza per l'alleva militare di Ntoni, il maggiore dei figli. Al fine di risanare il debito pubblico e di procurarsi le risorse per gli investimenti di cui il neonato paese ha bisogno, la destra storica appoggia le politiche di drastico aumento della pressione fiscale volute dall'allora ministro delle finanze Quintino Sella. In una prima fase vengono aumentate principalmente le imposte dirette, in particolare sui redditi di origine agraria, e in una seconda fase vengono aumentate anche le imposte indirette, colpendo così maggiormente i ceti meno abbienti. Nel 1868 viene introdotta la tassa sul macinato, particolarmente svantaggiosa per le classi sociali più povere, per le quali i derivati del grano rappresentavano il principale, se non unico, alimento. Inoltre, la legge costringe quasi tutti i piccoli mulini a chiudere, in quanto questi non sono in grado di munirsi dei meccanismi di misura necessari a determinare l'ammontare dell'imposta da pagare. Il provvedimento scatena violente proteste popolari, che danno luogo ad assalti ai mulini, invasioni di municipi, ecc. Il governo reagisce con durezza a queste proteste, reprimendole con decisione, causando spesso morti e feriti tra la popolazione civile. Per quanto questi provvedimenti siano iniqui e impopolari, essi fanno sì che la ricchezza nazionale aumenti costantemente nel ventennio tra il 1860 e il 1880, tanto che il 16 marzo del 1876 il presidente del Consiglio, Marco Minghetti, può annunciare il pareggio di bilancio. Come già accennato, questi provvedimenti, in particolare la tassa sul macinato e la leva obbligatoria, creano un forte malcontento nelle regioni che erano appartenute al regno delle due Sicilie, soprattutto tra la popolazione più povera, che era la più colpita. Questo malcontento porta allo sviluppo del fenomeno del brigantaggio nelle regioni meridionali, conosciuto come Grande Brigantaggio, in quanto il semplice brigantaggio esisteva da tempo in vaste regioni del Sud Italia e prendeva le connotazioni di mero banditismo, mentre il Grande Brigantaggio assume connotazioni politiche e minaccia seriamente l'unità appena raggiunta. È per questo motivo che la destra storica reagisce con estrema durezza al brigantaggio, con il dispiegamento nell'Italia centro-meridionale di un gran numero di soldati e con la promulgazione di leggi speciali, che permettono di soffocare nel sangue questo fenomeno, con decine di migliaia di morti in battaglia, esecuzioni sommarie, deportazioni, torture e con la distruzione di interi villaggi. Ecco, per informazioni specifiche sul brigantaggio vi rimando all'episodio di Non puoi non saperlo, dedicato a questo fenomeno. In politica estera la destra storica deve affrontare la questione del completamento dell'unità d'Italia. Il Veneto viene annesso al Regno d'Italia in seguito alla Terza Guerra d'Indipendenza, conclusasi il 12 agosto del 1866 con l'armistizio di Cormons, tra Regno d'Italia e Impero Austro-Ungarico. Il 3 ottobre dello stesso anno viene firmato il Trattato di Vienna, che prevede che Veneto e Friuli vengano ceduti dall'Austria alla Francia, che li avrebbe poi trasferiti all'Italia, previo il consenso degli abitanti tramite un plebiscito. Il plebiscito si tiene il 21 e 22 ottobre del 1866 e ha esito favorevole all'annessione al Regno d'Italia, con 641.758 voti favorevoli e 69 contrari. Per quanto riguarda lo Stato Pontificio, in un primo momento la destra storica cerca di risolvere la questione con la diplomazia, ma si scontra con l'opposizione di Papa Pio IX, appoggiato da Napoleone III. Con la caduta di Napoleone III a seguito della guerra franco-prussiana, la destra storica decide per la soluzione militare. Le truppe italiane attaccano lo Stato Pontificio, che cade il 20 settembre del 1870 a seguito della nota breccia di Porta Pia. Roma diventerà la capitale del Regno nel 1871. A seguito di questo evento le relazioni con la Chiesa Cattolica vengono seriamente compromesse. Papa Pio IX si proclama prigioniero e lancia violenti attacchi contro lo Stato italiano. Attacchi ai quali la sinistra storica reagisce istigando una forte campagna anticlericale. Il governo cerca di mitigare questa situazione regolando i rapporti con la Santa Sede, con la legge delle Guarentige, che riconosceva la figura del Pontefice e gli assegnava un introito di 3.225.000 lire, corrispondenti a circa 19 milioni di euro del 2016, esentava dal pagamento di imposte i maggiori immobili vaticani e riconosceva l'indipendenza del clero. Questo provvedimento non viene però riconosciuto da Papa Pio IX, che vieta ai cattolici di partecipare alla vita politica italiana secondo la formula né eletti né elettori. Si tratta del cosiddetto non expedit papale, già proclamato nel gennaio del 1868 e al quale abbiamo fatto riferimento nell'episodio dedicato ad Antonio Fogazzaro. Le tensioni con la Santa Sede si risolvono soltanto nel 1929, con l'approvazione dei patti lateranensi che ristabiliscono regolari relazioni bilaterali tra Stato italiano e Santa Sede. L'era della destra storica finisce nel 1876, quando il governo Minghetti viene messo in minoranza dal Parlamento che rifiuta di nazionalizzare le neonate ferrovie. Minghetti è così costretto a dare le dimissioni, a causa di quella che passerà alla storia come rivoluzione parlamentare, in quanto per la prima volta un capo del governo viene esautorato non per autorità regia, bensì per volontà del Parlamento. Il re Vittorio Emanuele II, preso atto delle dimissioni, dà l'incarico di formare un nuovo governo al principale esponente dell'opposizione, Agostino de Pretis. Inizia così l'era della sinistra storica. Ecco, chiudiamo con un paio di slides che elencano i vari governi della destra storica. Come potete osservare sono innumerevoli e molti di essi durano davvero soltanto pochissimi mesi. Ecco, questa è la prima e questa è la seconda slide. Bene, questo è tutto per quanto riguarda la destra storica. Spero che abbiate trovato questo episodio interessante. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi e come sempre, grazie per l'attenzione, ciao a tutti e alla prossima!